Il giorno più lungo, le ore più tristi di quella sortita su Roma che non ha portato i frutti sperati, le speranze frantumate dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni, l'Avellino è fuori dalla B, in attesa di giocarsi l'ultima carta al Tar. Si ripiomba nell'incubo, nella paura profonda di dover passare dall'altare del professionismo alla polvere dei dilettanti. E dopo il verdetto che ha fatto gettare lacrime amare, l'incubo corre veloce anche sui social, dove Pierpaolo Marino, pezzo di storia bianco verde, su Twitter ha così commentato «Per chi come me ama la squadra della propria città, non è una buona serata, tristezza infinita». Commovente il ricordo di Riccardo Cucchi, voce storica del giornalismo nazionale. Niente Serie B per l'Avellino, è una sentenza triste per una società che ha lanciato giocatori di talento e per una tifoseria appassionata. Se ne va un pezzo di storia, la nostra storia. «Le lacrime di tutti noi sono le lacrime di uno che negli anni 90 ha fatto esultare giovani e meno giovani, Salvatore Fresta. Sto pensando solo a te, mio grande amore. Qualsiasi categoria tu farai, io non ti lascerò mai». Il commento dell'attaccante su Facebook. «Una pugnalata sarebbe stata meno dolorosa, così Filippo Viscido, uno dei protagonisti della rinascita Erpina, che ha fatto parte della storia del calcio, ma soprattutto dell'Avellino, ha deciso di stringersi intorno alla squadra dei tifosi in un abbraccio ideale. Del resto, come ha scritto il britannico Simon Cooper, il calcio è un gioco, ma anche un fenomeno sociale. Quando miliardi di persone si preoccupano di un gioco, esso cessa di essere solo un gioco.